Passeggiando per le strade di Ariccia siamo arrivati in via dei Cardi numero 5 e troviamo New Ital Transfers. Allora andiamo a conoscere insieme Manola, venite con me. Sono all'interno di questa azienda New Ital Transfers in compagnia di Manola che è la titolare. Siamo sempre qui ad Ariccia in via dei Cardi numero 5. Bentrovata Manola, che cosa stai realizzando? Sto facendo un campione per un nostro cliente che ci ha chiesto, oltre la stampa, anche l'applicazione degli strass. Ecco, quindi stai mettendo questo lavoro di posizionare gli strass al punto che mi ha detto il cliente. Gliel'ho già applicato una su una maglietta bianca e gliene sto facendo un'altra su una maglietta beige per vedere magari sulle varie colorazioni. E poi praticamente, vabbè, stavo facendo anche un'applicazione di un altro transfer digitale per il tessuto chiaro, sempre per un altro cliente. Quindi la sera tante volte mi fermo per fare le prove per il giorno dopo. Le prove per il giorno dopo. Ecco, raccontiamo ai nostri telespettatori appunto che ti occupi di tutto quello che riguarda, insomma, cappellini, magliette, borse. Cosa di pubblicità, praticamente personalizziamo tutto, specialmente in questo periodo che insomma il lavoro è quello che è. Quindi, che ne so, t-shirt, cappellini, borse, addirittura quest'oggi ci hanno mandato del infradito da personalizzare, barzupi, borse, qualsiasi cosa.